Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop avese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 Caso SM, Bariani ha smentito le voci di dissapori e contrasti con il sindaco Barbieri Bergaglio si è dimesso da SM Venite Servizi e l'ha accusata di dire certe cose solo perché le tornano utili a fini politici E' ancora convinto che, la vado a citare, il disegno è quello di ribaltare gli organi amministrativi delle aziende del gruppo non perché hanno sbagliato ma perché si sono mostrati autonomi e gli obiettivi sono chiari ovvero riportare SM sotto lo stretto controllo del cerchio magico per pilotare in modo ancora più stretto le prossime decisioni strategiche? Sì, io confermo la mia posizione perché ritengo che sia così In ordine Sono soddisfatto della dichiarazione dell'ingegner Bariani Questo significa che il c'è, se le sue parole sono veritiere, non ho dubbi che lo siano vuol dire che c'è un collegamento molto forte e che quindi l'amministrazione comunale conferma quello che è stato sino ad oggi il comportamento positivo e la gestione da parte del presidente Bariani nella conduzione dell'ASM di Voghera Questo mi porta a dire che avendo, come sostiene anche il vicepresidente a fronti utili sempre crescenti direi che dovrebbe essere scontato la riconferma dell'ingegner Bariani per il secondo mandato quando a giugno dovrà essere rinnovato il consiglio d'amministrazione Questo per quanto tiene ASM, la capogruppo Per quanto tiene invece ASM e vendite e servizi sono i fatti a darmi ragione e non metto in dubbio che l'ingegner Bergaglio abbia dovuto per causa di forza maggiore lasciare l'incarico Anche qui di fatto ASM vendite e servizi andrà in difficoltà perché un cambio di direzione generale in sei mesi sicuramente non è positivo Mi aspetto che siano da parte dell'amministrazione comunale e da parte dell'ASM capogruppo perché è l'ASM capogruppo che nomina il presidente di ASM vendite e servizi e se non sua partecipata le scelte siano fatte non attraverso criteri politici ma attraverso valutazione di competenza del manager che sarà chiamato a ricoprire questo ruolo Lei sospetta che verranno utilizzate dei criteri politici? Io sì, lo sospetto perché, ma mi auguro di sbagliarmi ovviamente per il bene della società e per il bene del gruppo perché il nome che circola è il nome di un imprenditore che è stato candidato con una grande visibilità in una lista collegata al sindaco Carlo Barbieri Allora è evidente che se questo nominativo dovesse essere nominato a presidente dell'ASM vendite e servizi la contiguità politica prevarrebbe sugli aspetti di carattere manageriale Voghera non ha una stagione teatrale L'assessore Azzaretti si è giustificata facendo notare che negli ultimi anni la sala del teatro era semi vuota Ci si chiede a questo punto che senso abbia investire sulla riapertura del teatro sociale Lei che cosa ne pensa? Ma il dibattito è stato un dibattito caldo Acceso Molto acceso, molto acceso e come dire, è diretto Ci sta, nel senso che su una tematica così importante, su un progetto che qualificherà se verrà realizzato la maggioranza di centrodestra come la ristrutturazione e la riapertura del sociale vanno spese tutte le parole necessarie L'assessore Azzaretti il giorno successivo alla sua intervista ha riconfermato che ci sarà una stagione teatrale a partire dall'inverno 2015 nella primavera 2016 quindi non al teatro sociale ovviamente perché non sarà aperto ma nei teatri Come il teatro Arlecchino immagino? Sì, al teatro Arlecchino e al teatro San Rocco mi sembra che questi siano i due spazi a disposizione e questo è positivo nel senso che i numeri che noi avevamo a disposizione sulla affluenza al cinema Arlecchino se non ricordo male erano numeri che riguardavano circa 2000 presenze per 7-8 spettacoli negli anni in cui il cinema Arlecchino aveva vinto la gara aveva vinto l'appalto per la cosa quindi erano numeri non elevatissimi ma numeri significativi quindi vuol dire circa 200 persone a spettacolo Il fatto che i teatri di Mede, i teatri di Pavia, i teatri di Brogna, di Stradella abbiano affluenza significa che c'è una disposizione dell'oltrepò verso il teatro e credo che non possa mancare a Voghera quindi è una decisione positiva quella che ha assunto l'assessore Azzaretti valuteremo poi che tipo di spettacolo riesce a coinvolgere la cittadinanza il cartellone non lo conosciamo ancora non sappiamo ancora come si svolgeranno le operazioni se sarà un appalto, se sarà un accordo con degli enti privati insomma lo valuteremo rispetto al teatro sociale noi avevamo scritto e lo ribadiamo sul nostro programma che è necessario che Voghera abbia un teatro che sia riaperto questo spazio pubblico storico e contemporaneamente che la gestione del teatro non può gravare in maniera pesantissima sul bilancio comunale aprire un teatro e poi avere un deficit economico di centinaia di miliardi di euro non è sostenibile da parte dell'amministrazione comunale Pavia ha il supporto della fondazione dell'UBI il teatro di Tortona ha un supporto forte della cassa di risparmio di Tortona quindi l'amministrazione comunale dovrà farsi carico di trovare degli enti privati che aiutino in maniera significativa con la finanza la gestione del teatro stesso su questo penso che l'opposizione è disponibile ad essere coinvolta nella distinzione dei ruoli Sui social si parla tantissimo di viale dell'artigianato ne abbiamo parlato anche noi di Giapp TV qual è la sua posizione a riguardo? La signora è molto determinata io l'ho incontrata due volte è decisa nella sua azione l'obiettivo è positivo ed ha anche una sua strategia di aiuto agli artigiani e commercianti Nella sostanza chiede di allargare alle zone periferiche della città gli eventi affinché i commercianti e gli artigiani delle zone periferiche possono usufruire di una maggiore attività e di una affluenza maggiore quindi di sicuro va presa in considerazione come sempre questi sono progetti che hanno necessità di tempo per essere portati a regime e anche di risorse economiche non gigantesche ma il costo del plateatico il costo degli allacciamenti il costo della luce del gas il costo delle strutture deve essere ben chiaro a chi organizza questi eventi l'amministrazione comunale laddove riesce può dare deve dare un supporto ma però e così pure le organizzazioni le associazioni di categoria non possiamo però consentire che eventi di questo tipo si trasformino poi in un fallimento quindi il nostro è un giudizio molto positivo io apprezzo anche personalmente la spinta di questa signora di questo artigiano che è proprietario di una gelateria e mi sembra di aver capito che non sia possibile per questo Natale portare a termine il progetto questo è quello che ha detto Confesar Centi dicono che mancano proprio i tempi disponibili questo non lo so ovviamente non lo so perché mancano i tempi tecnici e auguriamoci di trovare una soluzione anche per le periferie insomma perlomeno di andare a verificare se eventi di questo tipo se manifestazioni di questo tipo siano produttive anche per le periferie non solo per il centro in una situazione di crisi generale insomma così come ne ventano i commercianti di crisi generale